Il sindaco poteva sedere legittimamente e quindi ha portato avanti alcune stanze. C'è stata l'inversione dell'ordine dei lavori su mia istanza, abbiamo rivisto un pochettino il regolamento, un bel po' di pochettino, devo dire che c'è stato un grande contributo da parte di tutti, quindi non è stato un atto tanto così per fare. E poi si è ritenuto opportuno sospendere la seduta e niente, ora poi ci saranno comunque i comunicati che vi spiegheranno un po' tutto. Comunque diciamo che la prima seduta non è ancora finita. Sul segretario generale? Appunto, non avendo trattato l'argomento, è rotto al primo punto con l'inversione dell'ordine dei lavori e non ci siamo arrivati in sostanza.